Un cordiale saluto ad una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A12 per lavori code tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Sulla Fibili per incidente ci sono rallentamenti tra Lastra, Segna e Firenze e Scandici in direzione Firenze. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandici in direzione Mare restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla regionale 69 Valdarno senso unico alternato per lavori al chilometro 1,700 nel comune di Pelago. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!